Tempo presente e tempo passato sono forse entrambi presenti nel tempo futuro, e il tempo futuro è contenuto nel tempo passato. Se tutto il tempo è eternamente presente, tutto il tempo è irredimibile. Ciò che avrebbe potuto essere è astrazione che rimane, possibilità perpetua solo nel mondo della speculazione. Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato mirano a un solo fine che è sempre presente. Ecco di passi nella memoria giù per il corridoio che non prendemmo verso la porta, che non aprimo mai nel giardino delle rose. Ecco delle mie parole, così, nella vostra mente. Ma a che fine, disturbando la polvere su una coppa di foglie, io non so. Altri echi abitano nel giardino, li seguiremo noi. Presto, disse l'uccello, trovateli, trovateli, girato l'angolo. Attraverso il primo cancello, nel nostro primo mondo, seguiremo noi l'inganno del tordo, nel nostro primo mondo. Là essi erano, dignitosi, invisibili, muovendosi senza schiacciarle, sulle foglie morte nel caldo autunnale, attraverso l'aria vibrante, e l'uccello chiamò rispondendo alla non udita musica nascosta, nel folto e lo sguardo non visto passò attraverso, perché le rose avevano l'aspetto di fiori che sono guardati. Là essi erano, come nostri ospiti accettati, accettanti. Così ci muovemmo noi, e loro cerimoniosamente lungo il viale vuoto, entro il rondò di bosso a guardare giù nello stagno prosciugato. Secco lo stagno, secco cemento orlato di Bruno, e lo stagno si colmò d'acqua. Alla luce del sole i fiori di loto sorsero piano piano, la superficie scintillò al cuore di luce, ed essi furono dietro di noi, riflessi nel laghetto. Poi passò una nuvola, e il laghetto fu vuoto. Via, disse l'uccello, perché le foglie erano piene di bambini nascosti con eccitazione, trattenuto il riso. Via, 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 disse l'uccello. Il genere umano non può reggere troppa realtà. Il tempo passato è il tempo futuro. Ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato, mira non solo fine, che è sempre presente.